Vedere l'uomo che arringava le folle, il dottore che saliva sul palco e diceva l'esatto opposto, ti ha colpito? Io sono felice che Bacco abbia cambiato idea, però cerchiamo di essere seri. Bacco, lei mi deve spiegare perché, quando aveva in mano tutti gli elementi per arrivare esattamente alle conclusioni a cui è arrivato adesso, lei ha preferito prendere quella posizione. Ammazziamo il vitello brazzo, Pite! Io voglio capirlo perché dell'ex organizzazione di Bacco c'è ancora un ex magistrato che va in giro, è un signore che mi pare che si chiama Tarro, che è quello che aveva annunciato alla prima ondata che tutto sarebbe finito con l'estate. Io fossi stato il signor Tarro, il dottor Tarro, dopo aver visto che mi ero sbagliato avrei cambiato idea. Sono contento di ammazzare il vitello grasso, ma cosa diavolo succedeva? Noi andavamo nel terapia intensiva, mio padre moriva in quei mesi, io vedevo cosa succedeva e lei come medico diceva che non era vero. Io non l'ho accetto di niente, però mi deve spiegare quale era il procedimento. No, 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 guardi, io glielo spiego. Allora, io per un periodo mi sono scordato di essere un medico, però le voglio dire questo. Sono due anni che noi lottiamo, Vax, Novax, ci riempiamo di tutto di più. Si entra in una fazione, perché, e anzi in questo io vi voglio invitare ad una cosa molto importante. Secondo me dopo due anni è arrivato il momento di creare un punto di connessione, una pacificazione. e vi spiego anche perché. Quando voi parlate di Novax, voi parlate di una struttura che sembra uguale. In realtà la maggior parte dei Novax sono persone che piangono, sono disperate, non vengono ascoltate. Si sentono in qualche modo circondate. Si guardano da una parte, trovano un mainstream che troppo spesso ne ridicolizza. No, no, voglio dire, e sapete perché allora... ...quando di fronte a una realtà che noi documentavamo come giornalisti ed era indiscutibile. Lei per provocazione diceva le barre di Bergamo sono vuote, io avevo i miei giornalisti a Bergamo e vedevo che le barre erano piene e venivo insultato perché dicevo la verità. E' questo che io non vi ho scordato. Io ho chiesto, infatti quello è stato un grandissimo errore. Però le voglio dire, dottore, se noi continuiamo a trattare i Novax, mi perdoni, no? Sono contento che lei abbia cambiato idea. Guarda che ci vuole più coraggio, Peter, ci vuole più coraggio a cambiare idea e a venirlo a dire di fronte a 3 milioni di persone che fare il doppio petto come la pulsella d'Arcovid che praticamente impiazza Ulula e qua viene i guanti di velluto a dire che scompaiono gli articoli. Dottore, io ho perso il gioco per la sua conversione.